Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre mia vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti per lo spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni Spirito Santo Vieni Spirito Santo Soffia dentro me di nebole Vieni Spirito Santo Tu sei l'amore che trasforma Vieni Spirito Santo 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 dalla soprannaturalità delle cose che scrive Luisa e che ci devono far riflettere su come noi ci accostiamo alla Santa Comunione Allora, c'è una piccola premessa a mio avviso da fare l'ho fatta già in altre circostanze anche in sede di meditazioni di questi iscritti noi oggi abbiamo completamente perso il senso dell'importanza della Santa Comunione della sacralità della Santa Comunione della necessaria preparazione per ricevere fruttuosamente la Santa Comunione e poi di come ci si comporta con Gesù Caristia una volta che lo si è ricevuto nella Santa Comunione dobbiamo sempre ricordare una cosa che la Comunione sacramentale è in questo tempo della vita terrena anche per Luisa la forma massima di possibile unione con Gesù con l'unica eccezione insomma che Gesù stesso specifica nei suoi scritti che è lo stato di un'anima che si trovi completamente unita alla Divina Volontà che trattiene Gesù in maniera analoga a come è in noi attraverso la Santa Comunione in maniera non temporanea cioè fino a quando non si consumano le specie ma ininterrotta senza ovviamente che questo significhi poter prescindere in nessuna forma in nessun modo in questa vita dalla Santa Comunione ecco come alcuni interpreti infelici ecco degli scritti di Luisa che le fanno dire a lei o a Gesù ciò che non hanno detto hanno fantasticato però questo sacramento che i padri chiamavano il farmaco dell'immortalità si può trasformare per noi in veleno anzitutto si trasforma in veleno e questo non lo dice chiaramente chi sta facendo la meditazione ma lo dice San Paolo Apostolo coloro che si accostano indegnamente al corpo e al sangue del Signore mangiano e bevono la propria condanna l'accostamento indegno alla Santa Comunione si ha quando ci si accosta ad essa senza essere in grazia di Dio questa situazione a mio modestissimo avviso nell'attuale contesto ecclesiale è enormemente diffusa perché il senso del peccato è molte volte addirittura quasi scomparsono nelle coscienze di certi fedeli e la leggerezza con cui si accosta la Santa Comunione è spaventosa un tempo era chiarissimo alle persone anche perché la catechesi anche dell'iniziazione cristiana era molto precisa in merito che se non ti confessi non ti può fare la comunione e già questo non significa necessariamente che la comunione che uno farà è comunione ben fatta perché sarà comunione ben fatta se la confessione è ben fatta cioè se tu i peccati li dici tutti quelli gravi e se di essi soprattutto sei pentito pentito vuol dire che ti dispiace tra i fatti e che c'è il fermo proposito di non farli più se no sacrilega la confessione e sacrilega la comunione l'uno e l'altro se la comunione da farmaco di immortalità si trasforma in veleno e io credo che questa sia un'operazione diabolica proprio in senso stretto noi comprendiamo che ciò che dovrebbe essere la nostra vita è vita invincibile vita eterna perché chi ha Gesù nel suo cuore non può essere vinto dal demonio dal nemico non può commettere peccati rilevanti non lo può non è possibile ecco il problema è che se questo non c'è se questo non c'è se non c'è lo stato di grazia quella comunione diventa il peccato in assoluto più grave che si possa commettere satanico per antonomasia è noto anche se non voglio certamente approfondire in questa serie questo argomento che i cultori del nemico nei loro osceni e sacrileghi riti giungono al vertice quando fanno degli atti orribili di sacrilegio nei confronti dell'Eucaristia perché la comunione sacrileghe è un atto satanico perché è un attacco diretto al cuore di Gesù che ha potuto istituire l'Eucaristia soltanto perché si è fatto uomo e perché è morto per noi ed essendo l'incarnazione e appunto la morte per la nostra salvezza ciò che rappresenta l'oggetto da combattere di Lucifero perché è stata la causa della sua caduta il fatto che il verbo diventasse uomo si sfoga e si scatena contro la comunione sia per colpire in qualche modo almeno lui così pensa il cuore stesso di Gesù ma sia anche perché sa che se trasforma il farmaco in veleno non soltanto che quello non avrà più nessun effetto contro di lui ma diventerà per antonomasia la porta del suo ingresso nelle anime per cui a mio modestissimo avviso le anime che intendono vivere nella divina volontà devono necessariamente ricominciare a avere nei confronti dell'eucaristia quel senso profondissimo di riverenza di adorazione di rispetto che un tempo c'era e che prima di alzarti per fare la comunione ci pensi non una volta dieci volte ecco e questo non perché uno voglia essere rigido o perché Gesù non sia felice di scendere in un'anima o perché voglia complicare la vita ma per evitare anzitutto che il farmaco si trasformi in veleno che è il primo più grosso problema è il primo e il più grosso problema e mi sono soffermato perché oggi questo qui si bypassa tranquillamente ma non è l'unico problema perché Luisa non era certamente a rischio di comunione sacrileca eppure abbiamo ascoltato tutto quello che fa per prepararsi alla santa comunione noi oggi questo l'abbiamo completamente smarrito cioè io vedo tranquillamente nella mia esperienza di parro che gente che arriva a messa anche la domenica con dieci minuti un quarto d'ora di ritardo e si vede che lo fa per abitudine perché non è cioè quando uno è parroco le vede insomma le nota certe cose e va tranquillamente a fare la comunione come se niente fosse oppure esce immediatamente dopo la benedizione probabilmente non rendendosi minimamente conto di certe cose perché oggi c'è quest'andazzo c'è questa capite anche certe prassi insomma che girano e che purtroppo adesso sono diffuse e sono lecite in base alla legge della Chiesa non aiutano a mio modestissimo avviso fermo restando insomma la loro liceità in base alla normativa attuale della Chiesa ma non aiutano assolutamente a reinteriorizzare la grandezza e l'importanza dell'eucaristia cioè non per nulla la Chiesa nonostante che sia tassativamente proibito accostarsi alla comunione senza essere in grazia tuttavia prima della comunione ci fa ripetere le parole del centurione non sono degno di partecipare alla tua mensa ma di soltanto una parola che sarà salvata perché c'è un'indegnità e qui entra il discorso della preparazione e anche quello che Luisa ci ha raccontato nella sua esperienza che come Gesù l'ha preparata la santa comunione c'è un'indegnità che è strutturale in noi e deve essere sentita da noi cioè perché ci deve essere il senso del nostro nulla e di come si diceva un tempo come si dice e di chi è colui che il tuo è a ricevere pensare attentamente a chi è colui che vai a ricevere a chi sei tu perché nella comunione si diventa una cosa sola con lui non è semplicemente un simbolo d'accordo un rito no no si diventa una cosa sola con Gesù è con lui è una cosa grossa ripeto non esiste in questo mondo altra forma di unione con Dio più grande che questa ecco allora Gesù cosa fa fa tre operazioni purificazione illuminazione e santificazione anzitutto la purificazione cioè noi sappiamo dalla lettura esegetica ecclesiale no il Vangelo di San Giovanni la lavanda dei piedi sostituisce la il racconto dell'istituzione dell'Eucharistia che cosa dice Gesù quando lava i piedi agli apostoli dice chi ha fatto il bagno è già tutto mondo e non ha bisogno di lavarsi se non i piedi cosa vuol dire in relazione all'Eucharistia questa espressione di Gesù chi ha fatto il bagno vuol dire che chi si è ben confessato e quindi sta in grazia e quindi può accostarsi all'Eucharistia ma ha bisogno che gli siano lavati i piedi cioè che sia purificato anche da tutte quante quelle miserie quelle colpe quotidiane che comunque gli macchiano un pochino l'anima perché sta a accostarsi al Santo dei Santi ecco perché la Chiesa prima appena inizia la Santa Messa si fa recitare il Confiteor e un tempo nella liturgia antica il Confiteor si ripeteva prima della comunione ad alta voce mentre il Sacerdote faceva la comunione i fedeli ripetevano il Confiteor e poi il Domino non sono dignus quindi anche nella struttura rituale la Chiesa sia pur brevemente ricordava che per accostarsi all'Eucharistia manco basta essere in grazia di Dio bisogna essere purificati per un'azione interna della grazia anche dalle colpe più lievi perché stai accostandoti al Santo dei Santi io personalmente suggerisco oggi insomma che non ci sono più queste norme liturgiche però suggerisco a chi me lo chiede è un suggerimento certamente non è un dogma di fede quindi si può fare dell'uso di questo suggerimento quello che uno maggiormente richiede dico guarda dopo che il sacerdote ha mostrato Gesù ha detto ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo prima di fare la comunione prima di metterti in fila mettiti un attimo in ginocchio umilia il tuo nulla davanti a Gesù fai almeno un atto di dolore eh quindi non è tanto ma è qualcosa no che ti aiuta e mentre stai in fila per andare a ricevere la Santa Comunione non ti metterà a pensare a tutti gli affari tuoi e a tante cose concentrati fai le comunioni spirituali invoca Gesù fai gli atti di amore fa qualcosa insomma quindi almeno la preparazione prossima prossima dato che oggi insomma voglio proprio vedere chi è che arriva in chiesa almeno un quarto d'ora prima e si fa quel quarto d'ora come dire di presa di coscienza dove inizia la preparazione prossima come si dice alla Santa Comunione almeno però puntuale a me si arriva e almeno questi piccoli gesti preparatori proprio nell'imminenza della Santa Comunione falli anche il segno della pace questo è uscito recentemente una istruzione dalla congregazione della Dottina della Fede controfirmata dal Papa il segno della pace nel rito romano non è l'occasione di fare una baraonda di cominciare a distrarsi a girarsi a destra a manca andare a cercare tutta la chiesa a chitare la pace è un simbolo quindi è un gesto che deve essere fatto in maniera sempre molto sobria e veloce si stringe la mano a chi ti sta vicino ma è un attimo che ti ricorda semplicemente che un'altra condizione ostativa e anche questa facilmente è passata per la comunione è che tu stia in pace con tutti sia che non ce l'hai tu con nessuno sia come dice Gesù nel Vangelo che nessuno ce l'ha con te se presenti la tua offerta all'altare ti ricordi che qualcuno ce l'ha con te dice Gesù lascia l'offerta vai a riconciliarti e poi torna ecco la seconda cosa è l'illuminazione quindi dopo la purificazione l'illuminazione appunto reci di ratto di dolore e rievochi questa purificazione ecco andando a fare la comunione comincia a pensare a Gesù fai qualche comunione speciale spirituale scusate e cerchi di ricevere la luce della fede alla luce della fede richiami la coscienza di chi è colui che vai a ricevere ecco e poi c'è la santificazione questa è un'operazione che dobbiamo chiedere a Gesù ecco prepara disponi tu stesso la mia anima abbiamo sentito qui che Gesù prende l'anima tra le braccia gli fa dei tocchi divini che riordiano i desideri gli affetti le inclinazioni no questo noi possiamo chiederlo sempre mentre stiamo in fila Gesù fai qualcosa e disponi tu stesso al meglio la mia anima io ho fatto quello che ho potuto a poterti ricevere ricevere con frutto e Gesù spicca un altro raggio vedete mi ha fatto capire il mio nulla dice Luisa quindi pensare e considerare chi è colui che va a ricevere e pensare anche a chi sei tu che solo per la bontà misericordia e l'onganimità del Signore ti azzardi ad accostarti alla fonte stessa della vita capite allora con questa disposizione interiore è ovvio che poi anche il modo prossimo con cui ci accostiamo alla Santa Comunione io insomma conformemente anche a quello che hanno insegnato gli ultimi pontifici che hanno raccomandato gli ultimi pontifici anche l'attuale perché tale è la prassi tuttora per chi riceve la comunione dal Papa in Vaticano è il modo migliore per accostarsi con questa disposizione alla Santa Comunione a mio avviso di ricevere Gesù in bocca e in ginocchio che sono anche queste disposizioni esteriori significative in quanto esprimono un atteggiamento interiore che a mio avviso aiuta molto di più che altre forme di accostamento ripeto pur lecite nell'attuale disciplina della Chiesa alla Santa Comunione poi ci sono questi ultimi due particolari la Corona di Spine e l'uniformità al Confessore il rapporto di fede con il Confessore la Corona di Spine sembra quasi alludere ecco al fatto che non ci si può e non ci si deve distrarle quando si va a fare la Santa Comunione né prima né dopo sappiamo che Gesù è stato coronato di Spine per i pensieri peccaminosi che noi abbiamo allora in procedo di accostarti alla Comunione e soprattutto dopo che hai ricevuto Gesù tu non devi pensare altro che a Lui io se potessi durante la Santa Messa il quarto d'ora di ringraziamento lo farei subito dopo che ho ricevuto la Santa Comunione senza prima della delorazione dopo la Comunione prima della Benedizione per me è una fatica enorme ecco dover essendo sacerdote comunque concludere la Messa e quindi dover posticipare il dialogo con Gesù a un po' di tempo dopo perché è una cosa che prima c'è meglio è e senza diciamo così nulla che ti distragga e poi il rapporto teologale con il confessore perché questo tipo di rapporto noi sappiamo che ancora ai tempi di Luisa la Comunione era diciamo così disciplinata dal confessore tu non potevi accostarti alla Comunione anche se stavi in grazia se il confessore non te ne aveva dato facoltà e licenza questa prassi è decaduta d'accordo io personalmente evidentemente il suo uso è prettamente facoltativo ma qual era la motivazione per cui come dire si concedeva la Comunione non troppo spesso anche alle anime buone dico questo semplicemente per spiegare per evitare che si facciano giudizi affrettati e anche per come dire spezzare una lancia a favore di una prassi che si è durata per tanto tempo c'aveva certamente una ragione di essere il motivo è molto semplice di una semplicità disarmante ed è questo se tu fai una cosa tutti i giorni ne prendi l'abitudine cioè eppure il tasso di fruttuosità di questo sacramento dipende dall'intensità del desiderio cioè questo sacramento produce tanti maggiori frutti in te quanto più l'hai desiderato e quando è che noi desideriamo qualche cosa quando quella cosa non ce l'abbiamo più abbiamo visto anche i giochi di amore che Gesù faceva spesso con Luisa non si faceva vedere la lasciava un po' di tempo senza di lui questo chiaramente sul piano mistico perché perché lei come dire impazziva dal desiderio lo chiamava lo cercava torna presto non ce la faccio più a stare senza di te questa chiaramente allora noi non abbiamo la visione di Gesù ma noi abbiamo l'Eucaristia ma ricevere l'Eucaristia è più che vedere Gesù attenzione e allora anche nei confronti di ricevere l'Eucaristia dovremmo trovare il modo noi di esercitare il desiderio nel senso che se tu magari ti accorgi che non c'è un grandissimo desiderio di Gesù e che magari stia facendo questo gesto in maniera abitudinaria io ne parlerei con il confessore se c'era insomma oppure in coscienza se anche tu stesso che potresti dire oggi c'è poco desiderio Gesù non è che non mi accosto perché non ti voglio bene non mi accosto perché aumenti in me il desiderio nel frattempo rinunciando a questa comunione che forse sarebbe un po' superficiale io ti riparo per quelli che si accostano alla comunione con troppo frettolosamente e ti mettono nell'etamaio di un'anima non in grazia facendo comunione sacrile questo a mio modestissimo avviso queste sono tutte quante pareri miei personalissimi però a mio modestissimo avviso un atto di questo genere potrebbe molti più frutti interiori che una comunione fratta tiepidamente o freddamente per ragioni dipendenti da scarsa preparazione o da mancanza di desiderio ecco io penso che queste considerazioni siano molto attuali è importante ringraziamo il Signore che ci ha fatto comprendere attraverso questa meditazione l'eccellenza e la necessità di essere ben preparati a ricevere il suo corpo e che con l'aiuto della grazia possiamo mettere il tutto in pratica a ricevere a ricevere Grazie a tutti. In questa vita, sia prima di ritirarti a vita privata con San Giovanni, quindi nei primissimi momenti della vita della Chiesa, sia soprattutto le messe che ti celebrava Lui nella vostra solitudine, nel vostro ritiro. Non osiamo immaginare cosa potesse succedere nelle tue comunioni. Vieni sempre nel nostro cuore perché la tua presenza, la tua intercessione, la tua azione, le tue operazioni possano supplire al molto che certamente sempre manca in noi, perché appunto le nostre sante comunioni possano essere fruttuose, sante. E ti chiediamo umilmente di preservarci dalla grande sciagura, che veramente Dio ce ne scampia il libere, della comunione sacrilica. Se ci sono state in passato che possiamo confessarle, ma che mai più accadano in futuro e che mai per noi il farmaco dell'immortalità abbia a trasformarsi in veleno oppure a cibo quasi in odore, in sapore, che diventa, per causa nostra, non certo per causa sua, quando adesso ci accostiamo con leggerezza, superficialità, mancanza di desiderio o di preparazione. Nella Divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico nella Divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, Fiat, Ave Maria. Grazie a tutti.